Capitolo primo. Croazia. 1. Ciascuno, pur ignorandolo, ha bisogno di edificare un tempio per l'anima. Ho costruito il mio primo edificio in Istria. La Basilica Ofrasiana di Parenzo è una perla di arte bizantina, la cui storia inizia nel IV secolo, all'epoca dell'imperatore Valente. Era un periodo della storia romana in cui le case dei patrizi potevano trasformarsi in chiese ed è quanto avvenne alla prima versione della basilica che ancora oggi presenta un pavimento a mosaico nell'oratorio, parte dell'abitazione originaria. Quell'edificio fu poi raso al suolo per lasciare spazio alla costruzione della nuova basilica nel 553. Le pareti furono mosaicate da maestri bizantini, i pavimenti da artisti locali. Invadente la figura del vescovo Eufrasio rappresentato su un mosaico dell'abside, che precisa con una dedica alla sua fondazione. Su tutti i capitelli del doppio colonnato, che separa le abside da Nanavata, è raffigurato il monogramma di Eufrasio, appellato santo, ma che santo non venne mai proclamato. Il ciclo di mosaici è di notevole fattura e presenta una raffigurazione della Vergine incoronata, una delle poche sopravvissute nell'arte occidentale dei primi decenni del cristianesimo, preceduta dalla Vergine della Basilica di Santa Pollinare Nuovo a Ravenna. Nel corteo, alla sua destra, ritorna Eufrasio, che le dona un modello dell'edificio. Tra il vescovo e l'arcidiacono Claudio si trovò un bambino, accompagnato dall'iscrizione Eufrasio, figlio dell'arcidiacono. Se questa ridondanza sfiora la megalomania, travestita allora dalla volontà di guadagnarsi il regno dei cieli, affascina vedere come l'arte ravennate esca dalla capitale tardo-imperiale per definire il volto dell'adriatico Giustinianeo. Altri elementi tradiscono la successiva influenza veneziana, come le decorazioni medievali del Ciborio, il politico rinascimentale di Antonio Pivarini e un'ultima cena barocca di Jacopo Palma il Giovane. 2 Ci muoviamo a sud lungo la costa. Il cielo si fa scuro e penso a quanto le madonne del mare svolgevano una funzione salvifica per gli abitanti di queste e altre terre. Molti sono tornati a casa, molti sono periti e per tutti il cuore materno ha servato una speranza. Osservo il mare tremante in superficie e lo sento scosso non tanto dai venti, ma dai segreti racchiusi nell'abisso, ben più esteso del suo modesto fondale. L'arrivo a Rovigno è nella pioggia, più minacciosa che forte. Escluse le distrazioni proprie del turismo, la città è incorniciata dalle nuvole e riluce come una rocca le cui strade si avvolga una spirale fino a raggiungere la chiesa di Sante Ophemia posata su un rilievo. Il campanile è un fratello albino dell'omologo di San Marco a Venezia, ma per la sua posizione ricorda più un faro. Conosciamo la famiglia croata che gestisce la pensione in cui avremmo dormito e subito si insaura una genuina amicizia destinata a durare pochi istanti. È parte di ogni viaggio dire almeno un ritorneremo. Non bisogna essere cinici, perché altrimenti si perderebbe la spontaneità del momento. Occorre anzi una coscienza in grado di saper godere della presenza, per poi lasciarla andare con la stessa naturalezza. Ci addentriamo per le stradine di Rovigno, tra i fiori che sporgono dai cancelli e i gatti immusoniti sotto gli stipiti delle porte. I tavoli ricavati dalle botti di legno si imbevono di umidità, mentre dall'interno dei locali provengono voci calde di turisti e rovignesi. La notte di stelle è mascherata da un manto di nuvole. La pioggia non è mai stata tanto variogluta. Capitiamo per caso nei pressi di un centro italo-istriano e ci fermiamo a mangiare nel ristorante di fronte. Scopriamo i fuzzi con tartufo e con gamberi e funghi, che ci scaldano il cuore in un'atmosfera domestica. L'alba del giorno dopo è testimone solidale di chi parte a malincuore. Parcheggiamo l'auto nel piccolo villaggio di Fasana. Timidi raggi di sole si intrufolano tra le nuvole. Passeggiamo sulla spiaggia semideserta e parliamo di quelle cose che nella vita quotidiana si dimenticano. Seduti sul muricciolo, in silenzio, guardiamo i rami degli alberi, la schiuma di un'onda, il becco di un gabbiano che fende una pozza d'acqua, le nubi che si dissolvono nell'etere. Avverto tutta la creazione come una forma spirituale in tensione verso ciò che di nostro non è manifesto nell'altro. Nonostante il turismo diffuso, di cui anche noi siamo parte, la Croazia mantiene ancora la sua natura eremitica e marinara. Curioso che mi attiri a sé proprio il mare, non so nuotare. Eppure, se dovessi scegliere un periodo storico nel quale vivere, sceglierei un decennio a cavallo tra 6 e 700. A bordo di un veliero nel mezzo dell'oceano o ai confini artici e antartici. Forse un tempo ho navigato, ho conosciuto i porticcioli dei pescatori, nascosti agli occhi concupiscenti dei pirati. E forse un giorno, in mare aperto, ho esplorato le tenebre e i suoi segreti per non fare più ritorno in quel corpo. Scrutto gli orizzonti marini e provo un romantico terrore per quelle profondità, che sono oggi il luogo più prezioso in terra per l'avventura. Sono davvero pochi territori sopravvissuti alla conoscenza. Un traghetto ci trasporta, infine, tra il piccolo arcipelago delle isole Brioni. Esiste un'espressione ormai logora, fuori dal tempo. Talvolta, nelle intenzioni di chi la impiega, si vuole indicare l'esatto opposto, ovvero un luogo che, contenendo ogni tempo, sembra quasi annullarlo. Visitando l'isola di Brioni Maggiore si ha questa impressione, la residenza estiva di Tito, chiese ortodossa in rovina, un castrum bizantino, templi dell'antica Roma, un ulivo millenario che produce ancora olive, impronte di dinosauri. E molto altro ancora, attraversando ogni secolo. Se volessimo spiegare una buona parte della storia d'Occidente a un marziano, Brioni Maggiori rappresenterebbe uno dei grandi libri del pianeta, un tesoro inestimabile nella biblioteca dell'umanità. 4. Arriviamo a Pola dopo aver attraversato chilometri di Olivetti e di tipica terra rossa estriana. È un'immagine, un colore con cui accompagnerò sempre il ricordo di questa terra. In città trascorriamo il nostro primo anniversario. Georges Brassens canta, alla compagna di viaggio, i suoi occhi il più bel paesaggio. Fan sembrare più corto il cammino. Non solo il cammino appare più breve, ma nei suoi occhi nasce in me la volontà di spingermi oltre, al di là delle frontiere, dei limiti fisici e mentali, oltre i significati certi e le spiegazioni logiche, oltre il conosciuto. Fa sembrare più corto il cammino perché il tempo insieme a lei è una scoperta che si rinnova e perché sa essere casa a ogni longitudine. La nostra anima riunita si incanta, meravigliata e non riesco a percepire alcun orrore lovecraftiano affacciandomi sul cosmo. Visitiamo Pola il giorno dopo il nostro arrivo. È la città estriana più compromessa dal rapporto della tradizione con la modernità, l'industria e il cemento. Le gru del porto pretendono rispetto, colorandosi la sera di tinte inedite. I container giacciono come monoliti austeri in mezzo al verde degli isolotti. Una bandiera croata si agita impaziente e sembra chiedere più forza al vento. Poi, però, scendi dal punto panoramico del castello e ti ritrovi in un groviglio ordinato di vicoli, una labirintica geometria austro-ungalica. E Pola riconosce se stessa nei suoi simboli antichi, nelle contraddizioni della storia e in un monastero francescano che sembra segnare il passo tra la vita del guerriero e l'ascesi della nacreta. 5 I marinai di Premantura hanno appeso le reti. I contadini siedono su comode poltrone di vimini. Sono tutti affittuari, qualcuno all'estero dell'imprenditore. Che cosa ne è stato della loro romantica durezza? Mi rifugio nell'immagine di una terra vergine che non è forse mai esistita. Rincorro i secoli a ritroso, prima che la rete fosse gettata in mare, prima che l'aratro solcasse la terra, prima che il turista espropriasse i focolari. Che cosa ne è stato della natura che precede l'uomo? Capo promontore è un serpente piumato dalle piume sempreverdi, una zigurat mesopotamica piena di ferite e un golem sonnolento ricoperto di molluschi, una placida testugine che non sa dove andare. La temibile creatura azteca dorme qui, in una terra a lei remota, in attesa di una nuova era. Almost Blue, canta Chad Becker. È la fine di una stagione. Molti animali sono già migrati, altri si apprestano a farlo. Qualcuno resisterà alle sferzate invernali del vento marittimo. Io non so i loro nomi e le loro storie, ma qui sono venuti meno i templi romani, le chiese bizantine e i bunker dell'era sovietica. Siamo oltre le storie, là dove queste diventano cicli. È quasi triste non sapere, non avere cognizione di ciò che sarà del nostro tempo. Camminiamo lungo la costa e ogni lembo di roccia si risolve in un'insenatura. Sembra un serpente millenario che si morde la coda, che non vuole morire mai. Le prime foglie d'autunno, gli ultimi rifiuti lasciati dall'uomo, il sole che tramonta precoce, di fronte a noi c'è l'orizzonte di cristallo e un vento delicato, le rocce che digradano in un mare di perla. È quasi triste, è tenero e completamente blu. 6. Juan Miró e Pablo Picasso ci accolgono a Opatia, o Abazia, dopo aver camminato sulla Wall Coffee in croata, sulle stelle di Nikola Tesla e di Miroslav Krleza. In una mostra temporanea al padiglione d'arte Jura Ischporer troviamo litografie e acque tinte, xilografie e incisioni. È incredibile come giungano qui la Spagna, i tori, i falli dionisiaci e la pornografia primitivista. C'è l'anima della psicoanalisi e delle guerre che sconvolsero il Novecento. I colori accesi, le linee del disegno, al contempo realistico e surreale, i neri marcati, irriverenti come l'arte erotica pompeiana. All'ingresso non avevo compreso. Capisco solo la fine perché Picasso e Miró, perché questa terra viva che è la Croazia e il suo fermento di secoli. La visita è un fuori programma. Ci ha rapito il tratto di costa unico che conduce a Opatia. Alcuni suoi elementi sono triestini, liguri e amalfitani. Potrei tentare di slegare i nodi di un tale intrigo internazionale, ma questa terra mi avvolgerebbe nelle pieghe della storia e mi renderebbe una sua trama. Posso solo raccontare le voci babeliche. 7 Con la visita a Opatia abbiamo lasciato l'Istria per la regione litoraneo-muntana. Visitando l'isola di Kirk, Oveglia, non ho visto i colori tanto accesi o saturi, né i chiaroscuri marcati delle fotografie in bianco e nero. Le foto possono mentire, ma tutto ciò io non l'ho visto con gli occhi. Nella scrittura ho levigato gli aggettivi, limato gli avverbi, ho rappresentato alcune cripticità. Non ho spiegato i luoghi in termini enciclopedici, ma esperienziali. Il luogo della mente è questo. È un esperimento alchemico, una meditazione minimalista. Nella scrittura, come negli scorci fotografici, non mi sembra di imitare uno scultore. Sento d'esserlo. Una rifinitura neoclassica che non esclude esiti espressionistici. Esistono luoghi fisici, luoghi della mente e luoghi dell'anima. In particolare circostanze i tre spazi collimano nella coscienza superiore. Nell'isola di Kirk c'è una spiritualità che non mi aspettavo. Guidare sulle strade interne è un piacere inedito. Scopro a ogni curva un sentiero che fende la fitta vegetazione e provo l'impulso di volerli percorrere tutti. Sbagliando strada conosciamo paesini dimenticati, mandrie di case in pietra, assubite. Mi ricordano i grattacieli cinesi nei deserti africani, edificati perché si poteva farlo, non per necessità. Giunti al paese di Veglia, entriamo in una delle chiese vicine alla costa. Troviamo la statua di un pellegrino al termine della navata centrale. All'accesso, sulla sinistra, una cappella dedicata alla Madonna. La guida per le strade e il cammino cittadino ci avevano predisposto a un'atmosfera sacra ed essenziale. Accendo un lume ai piedi della statua in onore della grande madre, qui in veste cristiana, come avrei fatto in sua presenza in un tempio diverso, a Persephone, a Iside, alle sue mille manifestazioni. Kirk non è il luogo in cui vivrei. È il rifugio in cui esercitare l'ozium degli antichi, una concentrazione che rigenera. Kirk è l'isola dei poeti e dei filosofi. L'immagine della civiltà sommersa, l'utopia. Lo spazio in cui vorremmo essere dimenticati da tutti. Non ultima, la morte. 8. Rieca, o fiume, è il capoluogo della regione litoraneo-montana. Dall'altura in cui sorge il castello di Tersatto ha avuto origine il cuore della città. Al museo civico di fiume è possibile osservare l'espansione urbanistica, da città portuale e contadina a polo della lavorazione dello zucchero, della carta e del ferro. Gli edifici hanno conquistato il mare, occupando un'insenatura marina a forma di mandorla. La rocca veglia sull'esistenza di migliaia di vite. Il leone di San Marco impone il suo regno, ma è solo il più loquace marchio di un potere. Distante dagli sviluppi urbanistici, le mura raccolgono le mille anime della storia croata. Dagli spigoli delle sue merlature, la città assume una logica inequivocabile. La scoperta di nuove rotte interne alla ricerca di un equilibrio dinamico. La vita, che era fuggita sulle colline, ha fatto ritorno al mare secolo dopo secolo. La scalinata di Petar Kruzik, comandante croato che difese il territorio dagli invasori turchi, collega tersatto a fiume. A un primo sguardo, salita e discesa si confondono e si racconta che un diavolo faccia perdere il conto dei gradini. A dispetto di questa storia, il sito è legato alla devozione mariana e le scale terminano in una chiesa. Una cappella fu consacrata da Kruzik a San Nicola, protettore dei marinai. Mi viene alla mente un altro luogo mariano posto su un pendio, la basilica di Notre Dame de la Garda, Marsiglia, che raccoglie i numerevoli ex voto delle famiglie marinaresche. Al tramonto torniamo a fiume e, alla nostra destra, osserviamo i palazzi in cemento costruiti nell'era di Tito, monoliti che formano la corona di un re che nessuno ha mai dichiarato nudo. Scesi, una linea rossa ricorda il confine Italo-Jugoslavio, un checkpoint Charlie che mette più brividi di quello berlinese, forse perché è ancora tanto fragile. Il toponimo stesso della piazza si confonde tra il nome di Tito e del Continental, l'hotel che vi si affaccia. Mi domando quale sia il nome primevo che renda viva quella piazza. Lasciando insoluti i miei interrogativi, preferisco conservare nel ricordo il tramonto di quel giorno, i colori di una natura sublime che sovrasta ogni grigiore di cemento titino. A fiume cerchiamo anche le tracce danunziane, non troviamo che fantasmi e storie tramandate con riservo. Al Museo Storico e Marittimo della Costa Croata una piccola stanza è dedicata all'impresa fiumana, quanto basta per fare in modo che non si parli di damnazio memorie. Al contrario al Museo Civico osserviamo una minuziosa ricostruzione della storia cittadina, con particolare attenzione alla fase austro-ungarica e precedente, la più innocua per i vivi. Sud Annunzio non vi è che una sala in cui la conquista è letta in chiave negativa e parziale. È un dialogo delicato perché si incrociano le ragioni della terza guerra di indipendenza italiana e del giovane nazionalismo croato. Forse, per una volta, quel sentimento identitario e condiviso potrebbe unirci. Una sera raggiungiamo Bakar, un tempo nota come Buccari, una cittadina che si apre su Veglia e sul Carnaro. Ripenso alla notte tra il 10 e l'11 febbraio del 1918, quando si realizzò l'omonima Beffa, un'incursione di motoscaffi armati siluranti italiani contro le navi austro-ungariche. L'attacco non ebbe una rilevanza militare, ma contribuì a risollevare il morale italiano negli ultimi mesi di guerra. Furono lanciate tre bottiglie nella baie, contenenti un messaggio derisorio scritto da Annunzio. Di tutto ciò, nulla resta a Bakar, se non il brivido di trovarsi al calar del sole al fondo del vallone, fantasticando su quanto accadde oltre un secolo prima. E mi domando se alle bocche del Cattero, oggi in Montenegro, spetti il medesimo oblio. I frammenti di queste storie si conservano a centinaia di chilometri di distanza al Vittoriale degli Italiani, sul lago di Garda. Qui Istria, Carnaro ed Almazia sono toponimi che mantengono viva l'autenticità della storia. Torniamo così al Museo Civico di Fiume. Mi fa riflettere quanto vediamo all'ultimo piano, una mostra temporanea dedicata alle opere di Franz Metz e dei fratelli Gustav e Ders Klimt, realizzate nel 1885 per gli interni del Teatro Nazionale Croato Ivan de Zayc. In essa intravediamo alcuni semi della futura secessione viennese, mediati da un neoclassicismo che non esclude il benefico malessere del quieto vivere borghese. Il canto del cigno dell'impero è l'altro volto di un fatto ineluttabile. Il giorno seguente passeggiamo tra i famosi murales della città. Scenografie per un palcoscenico di proporzioni urbane, pesci umanoidi immersi in un mare rosso-blu, una ninfa psicedelica la cui aureola è un mandala, ombre nere sui pilastri, città sanguinolente, un fauno arciere e una testa marina con cinque occhi che fuma una pipa verde. Figure di altri mondi, non meno concrete delle nostre creature, spiano da dietro le colonne di cemento. Intorno, i vecchi palazzi asburgici non riconoscono la prole psicoanalitica che hanno generato. E se il canto del cigno di un altro modesto impero fosse il seme che dà vita un diverso futuro? 9 Il parco nazionale dei laghi di Plitvice si trova nella terza regione croata che visitiamo, quella della Lika e di Segna. In serata riusciamo a camminare proprio sul molo di Segni, in cui si recita un antico detto, la Bora nasce a Segna, si sposa a Fiume e muore a Trieste. Il viaggio in Croazia avvolge al termine e la visione dei laghi, e più che una cartolina da mostrare ai turisti, porta con sé un frutto maturo. Di sera torno al ricordo dell'escursione. Il nostro passaggio sul traghetto, che sorge a simbolo, è il cammino ad anello lungo il perimetro dei laghi, in senso antiorario, che interpreto oltre la semplice passeggiata. Le cascate mettono a nudo le ere geologiche. I segreti delle grotte attendono l'ora di un Edmond d'Antè abbastanza accorto da notare ciò che è cristallino. Mi domando se quel nuovo spazio, il tesoro della proporzione, cercato con disperata angoscia, non sia altro che un ritorno alla natura.